Sì, abbiamo passato il finale, siamo tutti felici perché per Monza è importante questa Coppa Europea per l'anno prossimo, quindi speriamo vincere contro Perusa, chi ha vinto contro Modena. Ci vediamo sabato a Perugia, aspettiamo i nostri tifosi, grazie. In secondo set ha fatto la differenza, secondo me, che noi abbiamo, soprattutto abbiamo giocato a casa, quindi dovevamo tirare battuta più forte, come abbiamo fatto, ha fatto ACO alla fine, poi abbiamo fatto bel lavoro in muro copertura, insomma questo qua. Sì, speriamo che di là facciamo partita più bella per tutti, da vedere tecnicamente com'è andata.